Il fintech è anche questo un termine che entra sempre più spesso nella nostra quotidianità, soprattutto insomma perché opera nel settore, ma non solo. Io sono andata a cercare un po' la definizione e ho trovato questi termini che definiscono il fintech, ovvero l'innovazione finanziaria resa possibile dall'innovazione tecnologica. Parto proprio da Deborah Ollasci, ecco è giusta questa definizione, è troppo semplicistica e soprattutto il fintech in questo momento in Italia che grado di sviluppo ha raggiunto? È importante effettivamente semplificare i termini anche perché già la finanza spesso allontana i consumatori finali perché penso non siano troppo complicati e incomprensibili per loro, quindi fintech effettivamente semplicemente la pianificazione del loro patrimonio attraverso l'aiuto della tecnologia non è un modo per complicare ma semplicemente aiutare loro a gestire il loro denaro. E sono sempre più consapevoli infatti, sempre più consumatori utilizzano questi nuovi strumenti e infatti il mercato è in una fase di crescita. In alcune fasi è un po' in rallentamento, in altre è in crescita ma è sempre molto dinamico. Infatti gli investimenti nel 2022 ormai hanno raggiunto quasi 900 milioni, una crescita in confronto al 2021 pazzesca e i consumatori effettivamente sono consapevoli. questo ce lo dimostra vari fattori se andiamo a vedere il mercato. Prima di tutto l'aumento appunto degli investimenti, sempre più partnership anche tra le istituzioni tradizionali investono grazie alle fintech, i consumatori sono consapevoli, lo utilizzano sempre di più ma anche la regolamentazione è un fattore importantissimo per lo sviluppo di questo settore e lo dimostra perché effettivamente le autorità stanno rispondendo e stanno raccogliendo questa sfida. Lo vediamo infatti dalle regolamentazioni già questo mese, una decina di giorni fa, è stato approvato il decreto legge fintech, la PSD2 che tra un po' arriverà anche già la PSD3 che ci permette comunque di aumentare sia i fornitori di questi servizi ma anche semplificare l'utilizzo per noi consumatori e anche il MICAR che è un regolamento pazzesco, ci permette di non solo noi in Italia ma anche l'Europa di aver fatto un regolamento non solo adattando le normative che avevamo già in passato ma addirittura dettando degli standard a livello mondiale perché effettivamente non esiste ancora un regolamento a livello mondiale sulle criptovalute quindi ci permette di dettare delle leggi, dettare degli standard che poi a un certo punto dovranno adattarsi anche gli altri e seguirci quindi viviamo effettivamente una grossa crescita di questo settore. Ecco Deborah, dalla tua risposta in realtà emerge forse una flessibilità maggiore rispetto al settore assicurativo perché abbiamo insomma un gap normativo che non è così ampio, io faccio il confronto con quanto è stato detto prima e forse anche insomma un'attitudine diversa del consumatore almeno in questo settore. Abbiamo parlato ecco di come creare vantaggi in maniera concreta, ecco ce lo spieghi esattamente in che cosa il fintech crea vantaggio per il consumatore finale? Allora il fintech crea vantaggio perché è prima di tutto inclusivo, grazie a applicazioni fintech molte persone sia gli unbanked, quelli che non avevano fino ad ora neanche un conto, permettere di gestire il proprio denaro, mentre prima tante persone non avevano neanche proprio un conto, comunque non erano interessate agli investimenti, ora sia i giovani che anche i più adulti possono accedere in modo molto più semplice e molto più economico anche a questi prodotti, quindi la pianificazione finanziaria diventa democratica, sia i giovani anche per una questione di educazione finanziaria perché poi un giovane che ha un app che gli permette di gestire la propria paghetta se sei più giovane o gestire i propri piccoli risparmi o piccole entrate iniziali e addirittura investirli anche a partire da 10 euro perché spesso i ragazzi non investono perché dicono ma noi siamo poveri, non abbiamo fondi, in realtà ci sono delle app che ti permettono di investire anche a partire da un euro anche giusto per capire come funziona il mercato azionario, come funziona la diversificazione ma soprattutto il risparmio e alcuni iniziano anche a capire addirittura l'importanza dell'assicurazione perché grazie all'insurtech i ragazzi possono assicurare tramite un'app c'è semplicemente anche il proprio cellulare, il proprio computer, ci sono ragazzi che non hanno grandi proprietà, non posseggono grandi cose materiali però per esempio per alcune persone il computer è la base della propria vita e spesso anche del proprio guadagno, penso a tutte le persone nomadi digitali o che lavorano in smart working, il furto di un computer sarebbe un disastro a livello economico quindi iniziano anche a capire l'importanza di piccole assicurazioni e poi crescendo c'è anche un'evoluzione della cultura finanziaria per comprendere anche come possono piattificare non solo i propri risparmi e investimenti iniziali ma anche la propria vita perché iniziano poi a maturare, ad avere una famiglia, ad avere più beni materiali e a comprendere già da piccoli la loro importanza, però dobbiamo essere anche noi a aiutarli a comprenderlo e a semplificare e a rendere soprattutto molto più sicuro il settore. Certo e poi di sicurezza ne parleremo con Simone Pizzoglio. Molto bello il concetto di democratizzazione, questo significativo e anche consente di eliminare uno stereotipo proprio relativo alle finanze, lo hai detto tu Deborah, c'è la credenza, l'idea che bisogna possedere una grande somma per valorizzare il proprio portafoglio, invece non è così e queste app semplici che dimostrano come anche i ragazzini possano gestire, già iniziare a gestire la paghetta è un ottimo esempio per capire come questa educazione finanziaria possa diffondersi già in tenera età perché è giusto acquisire delle competenze che poi da adulti quando si avranno più quantità di denaro e più responsabilità si saprà utilizzare meglio, questo è un processo di crescita progressiva. Hai citato anche il fatto delle nuove professioni digitali, dei nomadi digitali che lavorano da ogni parte del mondo e che contengono, anzi fanno racchiudere dal computer tutta la loro esistenza e quindi qui io introduco anche l'intervento di Giuditta Massone perché proprio di nuove professioni e professionalità parliamo perché all'interno del fintech ci sono delle nuove finestre lavorative, queste opportunità che la tecnologia anche abilita. Quali skill bisogna possedere per entrare in questo mondo e soprattutto ti chiedo di fare una distinzione tra skill di tipo soft e hard, cioè delle competenze specifiche e invece delle competenze che riguardano altre capacità perché mi chiedo se in un mondo digitale le cosiddette soft skill quindi insomma anche altre capacità che non siano strettamente tecniche siano importanti oppure no? Assolutamente sì e grazie anche per la bellissima domanda. Beh sicuramente la transizione digitale che stiamo vedendo apre lo scenario a tante nuove professioni e comunque ne va a potenziare anche altre che abbiamo già visto nascere negli scorsi anni. Ne cito giusto alcune per poi andare al secondo punto della domanda. Sicuramente oggi vediamo una forte necessità di data scientists quindi tutti gli esperti di dati, di analisi di dati sia finanziari ma anche non tramite algoritmi, tramite modelli anche complessi. Oggi è molto importante la competenza sull'artificial intelligence, sul data mining, il machine learning quindi questa è sicuramente una professionalità in fortissima crescita. Così come abbiamo sentito anche prima le professionalità legate al mondo della regolamentazione fintech quindi vediamo una tecnologia che va avanti molto velocemente e quindi la regolamentazione che sta dietro e sta alla base a volte non esiste, non esiste nemmeno e l'abbiamo visto e vissuto penso tutti in prima persona recentemente con il caso di CGPT dove non esisteva ancora una regolamentazione adeguata appunto alla tecnologia. Stiamo vedendo crescere molto anche il settore della cyber security appunto che affronteremo anche in questo panel così come citerei anche tutto quanto concerne il mondo dell'ISG e della sostenibilità che entra sempre più anche nelle tematiche finanziarie. Però ecco cosa sta dietro di fatto a queste nuove professionalità? Sicuramente anche nuove competenze e quando noi parliamo di nuove competenze parliamo proprio di future skills quindi le skills del futuro che di fatto cosa sono? Sono un mix di competenze tecniche quindi più hard e soft skills. Quando parliamo di competenze tecniche oggi non possiamo non parlare appunto di artificial intelligence, di machine learning, di competenze sul mondo dei dati che indubbiamente sono molto forti e molto richieste nel settore finanziario ma sono trasversali anche su altri settori e questo lo vediamo anche in relazione all'ambito competitivo e alla competition che stanno vivendo le fintech così come le istituzioni bancarie assicurative più tradizionali. Quindi oggi non competono più solamente con le banche e le assicurazioni tradizionali ma con le big tech, con le fintech che nascono proprio sulla tecnologia. A questo colleghiamo indubbiamente le soft skills che mi sentirei di dire acquistano e stanno acquistando una importanza crescente e tra queste citiamo come il creative thinking per esempio quindi la creatività, il pensiero analitico, la capacità di problem solving, le competenze di empatia, di leadership e sono tutte quelle competenze che di fatto ci permettono di anche apprendere in un contesto in rapida evoluzione quindi che ci permettono di evolvere insieme al mondo. Quindi sicuramente per rispondere alla tua domanda sia le competenze soft che hard sono molto importanti. Certo ecco quindi insomma non ci saranno solo competenze puramente tecniche ma anche tutto ciò che riguarda anche la creatività, il genio. Parlavamo prima del farsi venire delle idee per realizzare anche nuovi prodotti. Ecco questa è quindi una componente che resterà un fattore umano che verrà esaltato comunque non accantonato. Io nel frattempo vedevo Deborah che prendeva appunti su tutto quanto dicevamo. C'era innanzitutto qualcosa che volevi ancora aggiungere che non avevi detto rispetto alle tematiche che abbiamo affrontato. Stavo riflettendo su quello che diceva Giuditta. Prima di tutto ricordo che il fintech ha dichiarato che il settore cerca per il 99% delle aziende cercano nuovi talenti. Effettivamente c'è un problema di competenze soprattutto trasversali per cui hanno spesso difficoltà a trovare giovani che siano nativi digitali ma che abbiano anche competenze di finanza consolidate. Quindi riflettevo su quello che diceva sulle soft skills che effettivamente sono sicuramente molto importanti ma meno di quelle tecniche, scusami, più di quelle tecniche perché quello le puoi insegnare dopo ma adesso servono più che altro talenti che siano entusiasta, che abbiano voglia di imparare più cose diverse. Mentre prima era molto più statico il lavoro anni fa e sta cambiando tutto nelle fintech. Ci sono talenti diversi. Ecco insomma la necessità anche di investire molto sulla formazione, lo abbiamo detto, si citano spesso le materie STEM e in quelle noi non siamo forti a livello europeo, anzi le ultime classifiche dicono esattamente il contrario, cioè per quanto riguarda le competenze digitali addirittura ho visto l'ultima classifica, l'Italia si posiziona proprio nel fondo al 25esimo posto su 27 paesi, non una classifica che ci fa particolarmente onore, ci vuole un grande lavoro insomma per cercare di colmare questa mancanza ed è la sfida un po' del futuro sicuramente. Da una parte ora i ragazzi hanno molte più possibilità di imparare, guardiamo anche Talent Garden, io sono la prima che fa i master, con loro sono fantastici, tuttavia le fintech hanno quel piccolo problema che hanno pochi fondi per investire in formazione, la maggior parte dei loro fondi giustamente sono impegnati già per investimenti nella sicurezza, nello sviluppo, nell'ideazione delle loro applicazioni, quindi per la formazione hanno ancora un po' pochi fondi, bisogna mettere, a differenza dei partner tradizionali come banche che effettivamente hanno più possibilità, quindi paghiamo un pochino quel prezzo secondo me noi fintech. Ecco Giuditta c'è stato un endorsement, voi siete fantastici, l'ha detto Debora, ecco nel cercare proprio di accompagnare sia le aziende che i singoli consumatori poi ad aumentare insomma le competenze digitali e a inserirsi sempre di più in questo contesto e quindi io ti chiedo qual è il vostro segreto, soprattutto quali strategie, i metodi che adottate in questi percorsi di formazione? Grazie innanzitutto, insomma è sempre bello avere poi i feedback positivi sul campo. Sicuramente Talent Garden cerca di adottare una metodologia di insegnamento che sia all'avanguardia, quindi questo mondo che ripeto corre molto velocemente bisogna anche non solo insegnare competenze adeguate ma anche nel giusto modo, quindi oggi è molto importante ingaggiare le persone perché se è vero che sicuramente le fintech probabilmente hanno meno fondi comunque si sta investendo generalmente tanto in formazione, questo vediamo anche con fondi istituzionali che vengono dati proprio per la formazione. Noi generalmente cerchiamo di indirezzare la nostra metodologia su tre pilastri che sono Inspire, Learn and Act. Inspire, quindi la capacità di ispirare. In primis va creato il mindset per poter formare le persone perché se è vero che parliamo di giovani talenti la formazione oggi è per tutti e deve essere per tutti, quindi anche persone più senior con maggiori anni di seniority aziendale devono assolutamente formarsi per rimanere competitivi. Quindi cerchiamo di ispirare e creare nelle persone quella curiosità e quell'attitudine che poi permette di creare il giusto terreno fertile. Il secondo è Learn, quindi insegnare delle vere e proprie competenze che sono poi quelle un po' citate prima, ne stiamo facendo tante, ma i nostri percorsi di formazione combinano sempre una parte di competenze tecniche e una parte di competenze soft. Spesso si viene chiesto la leadership può essere insegnata? Beh in parte sicuramente sì, quindi ci sono delle competenze anche soft, la creatività, il pensiero laterale che possono essere comunque insegnate e migliorate con determinate metodologie. E poi l'ACT, quindi la messa a terra, ovvero non rimaniamo ad un piano di competenza puramente nozionistica, ma abbiamo sempre una parte di messa a terra, cioè la formazione va agita, il cambiamento va agito, per cui abbiamo sempre una serie di di workshop o comunque di momenti un po' più concreti. E poi citerei anche l'importanza del network e della contaminazione anche fra diverse persone e diversi background. Talent Garden nasce originariamente proprio come posto di collaborative learning, oggi si dice, quindi dove le persone potessero lavorare insieme e apprendere le une dalle altre. E manteniamo molto vivio questo spirito. Oggi più che mai bisogna riuscire a apprendere anche da altri settori, parlarsi, scambiarsi delle informazioni ed è proprio dallo scambio reciproco che poi nascono le migliori idee dalle start-up in avanti. Ecco, un concetto che torna questo di apertura tra i vari player, insomma, non restare chiusi nei propri confini, ma cercare di aprirsi, di acquisire anche competenze, conoscenze da chi lavora accanto a noi. E io ti chiedo, col resto ancora un attimo da Giuditta, se vuole poi rispondere anche Deborah, però come si stanno muovendo nel concreto le banche e le assicurazioni che abbiamo definito un po', no? Dei giganti per molto tempo uguali a se stessi per cercare di migliorare e di prendere il meglio da queste possibilità che voi offrite. Cioè, le banche e le assicurazioni che cosa stanno facendo nel concreto per guardare al futuro, visto proprio che alcune professioni diventeranno obsolete e ne nasceranno di altre. Sì, sicuramente la formazione è la prima cosa che stiamo vedendo a livello di investimento. Quindi quando parliamo con istituzioni finanziarie, diciamo, tradizionali, dove c'è tanta necessità di upskilling e di reskilling di competenze, c'è anche la consapevolezza crescente della necessità di formare le proprie persone. Per cui vediamo la nascita e supportiamo, nei stessi come Talent Garden, la nascita di academy interne dove si vanno a formare tutte le persone, dai nuovi assunti alla leadership, su competenze a volte simili, a volte diverse, comunque tutti devono essere formati. Quindi vediamo che la formazione è sempre più percepita come parte della strategia aziendale di crescita. È una vera e propria leva competitiva, per cui quello che fa Talent Garden di fatto è questo. Ci sono altri metodi anche ovviamente per riuscire a competere in questo mondo, quindi l'assunzione anche di talenti, di professionisti dall'esterno è una metodologia. Indubbiamente quando parliamo di talenti così nuovi sono anche difficili da reperire sul mercato, a volte non esistono. quindi è comunque molto importante puntare sul proprio capitale umano e qui vediamo anche la nascita di metodologie come il reverse mentoring dove abbiamo persone più senior che possono imparare anche dalle nuove generazioni su alcune competenze e viceversa. E questo è importante anche in uno scenario dove far convivere diverse generazioni a volte può essere complesso. certo e sì una grande sfida insomma quella di appunto far coesistere ormai professionisti che appartengono a periodi anche insomma di formazione diversi. Questo sì. Ecco Deborah se vuoi aggiungere anche tu una considerazione su questo punto. secondo me c'è una formazione molto più circolare non è più l'anziano che insegna il giovane ma essendosi aperti molto di più la tecnologia i giovani possono insegnare qualcosa ai manager e viceversa. Guardando anche la consulenza finanziaria che è un mondo ampio ancora molto tradizionale non andrà a sparire sicuramente ma deve sicuramente aggiornarsi anche loro. le banche si stanno muovendo da questo punto di vista stanno iniziando anche a creare veri e propri percorsi per i giovani e per il passaggio generazionale quindi creano addirittura c'è chi crea una vera e propria università all'interno della banca. Ci sono quindi interi percorsi per formare i giovani e creare così un punto di contro tra i giovani e i più anziani perché non ci sarà più il consulente finanziario. E a proposito di questo esatto tu hai cognato proprio un termine il consulente facendo una crasi tra il consulente e il fintech la tecnologia. Il rapporto umano non andrà mai a sparire perché la persona non deve gestire soldi ma deve gestire obiettivi desideri una vita quindi il rapporto umano e l'empatia resta sempre un fattore principale nella pianificazione finanziaria quindi la gestione del genere può essere semplicemente gestita in modo più semplice e veloce ed efficace con la tecnologia ma resterà sempre in parte tradizionale. Quindi il consulente finanziario dovrà aggiornarsi su queste nuove tecnologie per essere in grado di dare poi una consulenza a 360 gradi anche perché i giovani non vorranno più il vecchio BTP ma vorrà capire gli investimenti che stanno arrivando ora dagli ETF alle criptovalute e a tutti i nuovi prodotti all'insurtech ovviamente. Se posso aggiungere sui consulenti finanziari perché sono proprio una tipologia di professione dove lavoriamo molto anche noi oltre alle competenze sui nuovi prodotti sicuramente molto importanti quello su cui lavoriamo noi è anche la comunicazione quindi la capacità di comunicare di essere empatici fondamentale verso il pubblico ma magari utilizzando degli strumenti di comunicazione diversi quindi come si comunica è fondamentale e con l'evoluzione anche dei sistemi di comunicazione anche la comunicazione deve cambiare non solo perché parlano con generazioni diverse ma proprio perché non ci si siede più necessariamente ad un tavolo fra due persone ma magari si fa una chiamata via Zoom o via Teams. Certamente. Ecco, grazie al contributo di Giuditta e di Deborah abbiamo fatto un po' una panoramica del mondo del fintech e abbiamo sottolineato non solo in questa tavola rotonda ma anche in quelle che ci hanno preceduto gli aspetti positivi della tecnologia e ce ne sono tanti del digitale che permette appunto l'innovazione di prodotti, di servizi anche appunto la nascita di nuove professioni quindi insomma sembra un panorama dove domina la luce però in realtà ci sono anche degli aspetti non così positivi ecco l'altra faccia della medaglia e questa è legata anche alla sicurezza dei dati che entrano appunto in questi ecosistemi digitali e io mi rifaccio a quello che ha detto prima la dottoressa Pazzini cioè un grande punto di domanda del sì ma chi è il responsabile alla fine quando noi mettiamo i nostri dati all'interno di questi sistemi dove collaborano diversi player ma alla fine ecco chi ne risponde? Chi ne risponde perché? Perché è stato anche sottolineato precedentemente questo è il settore anche dove le frodi a livello digitale si moltiplicano soprattutto ecco negli ultimi anni e qui occhiamo in causa Simone ci sono dei dati ecco a supporto a sostegno di tutto questo ma innanzitutto ecco ti chiedo prima di vedere poi i dati i numeri una valutazione generale ovvero ma noi siamo quanto siamo realmente preoccupati quando immettiamo i nostri dati all'interno dei sistemi digitali perché sì apparentemente ecco c'è questa discussione questo dibattito ma poi alla fine li inseriamo anche abbastanza velocemente senza magari rifletterne a sufficienza ma sì intanto credo che oggi abbiamo parlato moltissimo dell'offerta abbiamo parlato poco della domanda ossia abbiamo parlato dato per scontato molto che il consumatore è pronto vuole e sta aspettando in realtà è in parte così sicuramente sappiamo benissimo che in particolare nel mondo finanziario assicurativo l'omnicanalità è uno dei diciamo dei settori che ha maggiormente saputo svilupparla e usarla tuttavia il tema della sicurezza e io non parlo da tecnico perché come potete immaginare facendo essendo noi di doxa osserviamo i consumatori il tema della sicurezza è un tema interessante dal punto di vista del consumatore spesso non viene trattato dal punto di vista di che cosa pensa che cosa fa e che emozioni prova il consumatore e il cittadino o la persona quando ha dei problemi in questo senso come dicevi c'è un fenomeno un po' a due facce da un lato la preoccupazione sicuramente aumenta e c'è anche uno stato un pochino di disagio noi abbiamo condotto con il nostro network internazionale un'indagine a livello globale con quasi 30.000 persone per cui è un campione veramente grande e vediamo che di queste quasi la metà dice che si sente come dire overwhelmed sopraffatto dai social network pensa che scusate io poi non li so tutti possiamo vedere anche le slide le proiettiamo così a beneficio del pubblico abbiamo le tavole credo che sia interessante vedere il punto sono preoccupato di condividere i miei dati e le mie informazioni personali e digitali sta scendendo eravamo al 48% nel 2021 siamo scesi al 45% in realtà in Italia molto di più questo è un dato che scende la preoccupazione scende il anche un pochino aumenta la consapevolezza o la consapevolezza dichiarata di che cosa e a cosa servono i dati e tutti quanti diciamo metà del campione è molto d'accordo sulla capacità della tecnologia di dare più diciamo più valore all'organizzazione una migliore organizzazione della vita quotidiana poi come dicevo prima metà ti dice I am overwhelmed sono sopraffatto le nostre vite sono sopraffatte dai social network questi dati come dicevo hanno queste riduzioni in particolare sulla preoccupazione può significare due cose da un lato può significare sicuramente più conoscenza più consapevolezza ma può anche diciamo portare con sé una sorta di assuefazione sappiamo tutti benissimo che non è che noi leggiamo termini e condizioni o le firmiamo o non usiamo l'app non ci sono alternative per il consumatore non ci sono personalizzazioni non c'è nulla o è così o non usi l'iPhone o è così o non usi l'app questa cosa evidentemente è un punto che ha portato il consumatore a un certo punto ad accettare attualmente evidentemente i benefici percepiti sono superiori dei rischi percepiti dicevamo che in Italia questo dato che sono preoccupato di condividere i miei dati è passato dal 2019 al 2023 è sceso di 10 punti dal 45% al 35% non vi facciamo vedere la tavola perché ci sono tutti i paesi ma è una dinamica che è abbastanza alternata tra i paesi tra i 63 paesi nel mondo su cui abbiamo fatto l'indagine e in Italia fortemente sta scendendo questo dato lascio a voi l'interpretazione se è assuefazione o è una maggiore consapevolezza io provo insomma da un'interpretazione di questo dato forse un po' è ormai diventata anche un'abitudine a delegare la sicurezza dei nostri dati a chi li gestisce un pochino anche magari di non curanza in alcuni casi ecco questo è insomma un punto di domanda su cui dobbiamo un pochino riflettere e siamo convinti del fatto che insomma quando noi affidiamo i nostri dati a questi sistemi siano in buone mani però non è sempre così e ci sono altri dati che lo dimostrano e riguardano il cosiddetto misuse esatto l'uso improprio c'è un'altra tavola con dei dati sul data misuse quindi sulla percezione o anche sul ricordo di avere avuto diciamo problemi di questo tipo è un'esperienza veramente diffusa e veramente in crescita il 44% delle persone di questi 26.000 ha detto che ha avuto un problema ha un'esperienza di spamming il 33% di pishing ma soprattutto se andiamo su quello che noi definiamo l'aggressive misuse vedete che le percentuali sono comunque due cifre queste sono percentuali che non dovrebbero essere francamente a due cifre e la percezione è per il 36% del campione di aver subito di aver avuto un'esperienza con un misuse dei dati di tipo aggressivo solo meno di 4 su 10 hanno dichiarato che non hanno mai avuto questo tipo di dati e questo dato sta fortemente scendendo era il 44% nel 2019 nel 2023 è diventato il 37% quindi effettivamente a fronte di un aumento e anche fisiologico perché l'aumento del digitale porta con sé un maggiore numero di interazioni però sicuramente la quantità di persone che ha questo tipo di esperienza è oggettivamente alta certo ecco questi dati testimoniano che non tutto va sempre bene come invece spesso siamo abituati a credere e quindi attraverso l'ultima slide noi cerchiamo di capire poi a livello emotivo che cosa succede cioè che cosa provano le persone dopo una frode digitale e quali sono questi sentimenti Simone? Sì, anche questo è un dato di ricerca è un dato di ricerca qualitativa abbiamo fatto una ricerca qualitativa molto estesa in questo caso non a livello globale ma su diciamo i principali paesi dell'Unione Europea abbiamo fatto i famosi focus group e le famose analisi ma anche abbiamo fatto un'analisi di text analytics sui social network quindi utilizzando i nostri strumenti di scansione di analisi di tutti i social network ci sono tre dimensioni ci sono tre fasi intanto e credo che sia importante parlarne perché raramente quando si parla di cyber security si parla di contenuti di che cosa prova quali sono le emozioni di chi subisce una frode finanziaria e di chi ha avuto un problema queste sono relativamente alle frodi finanziarie non sono relative alle frodi in generale frodi finanziarie online quindi è importante perché comunque la customer experience di cui tanto si parla ha una componente emotiva e emozionale a me capita di andare a molti contesti dove si parla di sicurezza e nel mondo finanziario raramente si prendono in considerazione questi elementi che vengono un po' dati per scontati o vengono diciamo tralasciati a favore di un'analisi sulla tecnologia usata che va benissimo ma ricordiamoci che poi i consumatori scelgono in base alla loro esperienza e soprattutto ti abbandonano se l'esperienza non è positiva e quindi abbiamo identificato queste tre fasi la prima è una fase di arrabbiatura rabbia la colpa è tua il danno è mio tu mi hai promesso mi hai fatto firmare mi hai fatto accettare delle condizioni che io non potevo umanamente leggere e capire e adesso sono io col cerino in mano proprio per essere così diciamo poco per essere estremamente diretti dopodiché si passa a una fase di paura ho perso il controllo dei miei soldi adesso cosa succede? può andare peggio che quali sono le conseguenze e questa è una fase di paura la terza fase è una fase di forte frustrazione su questa fase c'è un timore che questo può essere ampiamente mentre le prime due fasi sono un po' più diciamo di tipo psicologico la terza fase deve essere gestita forse un pochino meglio a livello di customer care da parte delle imprese perché questa frase di frustrazione è sempre presente dicono ok adesso stame scalare la montagna amministrativa segnalare la cosa trovare il numero aspettare in linea con la musichina piuttosto che parlare con un chatbot che non sempre mi capisce perfettamente attendere magari in una chat live con una persona il tempo e non essere non avere l'incertezza di essere compresi questo tema è un tema importante è un tema che determina tantissimo diciamo la scelta di restare o non restare poi con il brand che ha generato questa frode ripeto io non parlo da tecnico o meglio non parlo da tecnico di cyber security parlo da tecnico di analisi di analisi sociale questi sono elementi che devono essere secondo me portati proprio embedded nella progettazione di tutti i temi di cyber security perché anche la comunicazione deve tenere conto di quelle che sono poi le reazioni dei consumatori assolutamente e ecco sono spunti molto interessanti molto importanti su cui coinvolgo anche Deborah e Giuditta perché Simone ha detto una frase decisiva cioè se la customer experience non è soddisfacente il cliente ti abbandona e quindi c'è il grande tema della fiducia e della reputazione di banche di assicurazioni di aziende che operano nel settore finanziario ecco questa reputazione nel mondo digitale è più difficile mantenerla Deborah e Giuditta i dati abrigi ora hanno un valore di perdita inestimabile rischia di affossare totalmente un'azienda perché è la base se non ti fidi di un di un app non la usi un po' come Amazon Amazon è cresciuta così tanto perché ha puntato tantissimo sulla fiducia quindi al di là di quello che poteva succedere tu sapevi che Amazon ti copriva se c'era qualche problema e quindi effettivamente ora le persone comprerebbero anche l'acqua su Amazon per le app finanziarie è ancora più importante perché naturalmente con gli smartphone con i wearable i dati sono sempre più numerosi c'è una quantità di dati che ormai va quasi calcolabile è quasi incalcolabile quindi una fuga un furto di dati personali potrebbe davvero creare problemi non solo ovviamente all'istituzione finanziaria e all'app ma anche soprattutto al cliente e al consumatore anche se ovviamente è molto sottovalutata soprattutto da noi consumatori poi diciamo siamo molto pegri noi consumatori pur di avere un prodotto non ci preoccupiamo tantissimo di quale sono poi le policy le best practices da utilizzare per proteggerci quindi paghiamo anche quel prezzo Simone siamo pigri? Secondo me no secondo me la verità che nessuno vuole ammettere è che si pensa sempre che il consumatore sia un po' meno smart di quello che poi è nella realtà noi abbiamo assistito in questi anni con l'avvento della multicanalità soprattutto nel settore finanziario a un fenomeno del trasferimento al consumatore e al cliente di tantissima operatività questa diciamo il do it yourself è diventato un elemento centrale della multicanalità al cliente va bene perché gli consente dei benefici in termini di velocità in termini di quando farlo e quindi non ha bisogno che ci sia la filiale aperta banalizzo però il cliente non è matto non è stupido lo sa che questo è un lavoro che gli è stato trasferito e quindi in cambio cosa si aspetta in cambio si aspetta quella che diciamo i tecnici chiamano user experience che io chiamo la super semplificazione ossia si aspetta una cosa che sia semplice che funzioni ma che funzioni sempre funzioni e talvolta la user experience funziona benissimo ed è estremamente fluida nel venderti nel venderti la cosa io per esempio sono uno che compra le 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 assicurazioni istantanee quando devo fare i viaggi quando devo andare a fare qualche sport con mio figlio eccetera però ci deve essere anche poi come dire la parte alternativa si citava Amazon non è finanziario però Amazon tutti abbiamo l'esperienza che con Amazon che ci ha mandato qualcosa di sbagliato è arrivato sbagliato tu chiami ti dicono ridammelo non voglio saper niente mi è capita di dire non mi è arrivato te lo rimandano senza farti domande senza chiedere niente e sappiamo che non è un'esperienza univoca perché in altri contesti in altre industries avere un rimborso devi dimostrare come dire devi portarti dietro devi portarti dietro il catastro qualche volta scusate la battuta però veramente questo è un punto importante i consumatori hanno accettato il do it yourself ma in cambio vogliono vogliono che tutto funzioni e che tutto funzioni in modo semplice anche quando ci sono problemi quando si parla di assicurazioni io dico sempre che è difficile misurare la soddisfazione di un'assicurazione perché l'assicurazione la compri per non usarla la compri in fondo e poi non compri un'assicurazione di danni sapendo che avrei un danno sperando di non usarla mai è il momento della verità è quando la usi sì Giudita ecco anche a te stessa domanda stiamo forse un po' sottovalutando la customer experience nel mondo digitale abbiamo parlato come ha detto Simone sempre insomma lato aziende che cosa è possibile fare non ci siamo concentrati abbastanza forse ecco su il lato poi del consumatore finale ma quello che vediamo noi lato formazione che c'è comunque un'attenzione crescente a quella che è la customer centricity quindi c'è la consapevolezza che si ha a che fare con un cliente sempre più edotto sicuramente e sempre più sofisticato che chiede sempre di più anche perché appunto l'omnicanalità e la velocità anche di trasmissione di informazioni è molto veloce passa tramite tantissimi canali quindi deve esserci un'attenzione infinita da parte dell'azienda al consumatore e a questo si aggiunge il fatto che lavoriamo anche in un panorama oggi attuale di mercato dove la competizione è altissima quindi ci sono tante tante realtà fintech anche finanziarie e quindi nel momento in cui il consumatore non è soddisfatto è molto veloce poi cambiare su un altro provider ecco un ultimo spunto perché appunto ci proiettiamo proprio al futuro con l'intelligenza artificiale che abbiamo detto apre a tante possibilità ma anche a tante criticità secondo voi per il futuro comporterà più vantaggi o più problematiche Deborah ti rispondo come direbbe il mio professore di economia dipende dipende da vari settori una delle soluzioni per esempio per risolvere questo problema è gli investimenti in tecnologie avanzate prima di tutto quindi passa da può passare da può diventare un vantaggio se ci sono effettivamente strumenti che proteggono queste app quindi password a doppio fattore tecnologie avanzate intelligenza artificiale che riconosce in anticipo e può addirittura prevedere questi frodi quindi quello sicuramente può aiutare a farlo diventare un vantaggio la seconda soluzione e ce lo può dare anche il nostro pubblico secondo me quanti di voi hanno un'applicazione sul cellulare fintech 1, 2, 3 applicazioni sul cellulare e quanti di voi nel cellulare hanno un software che protegga dai rischi meno ok quanti di voi prima di sottoscrivere o di scaricare un'app hanno letto tutte le condizioni una sola persona è un avvocato no nel campo legale ok questo dimostra che abbiamo gli strumenti dobbiamo sicuramente investire di più di più in modo importante in tecnologie avanzate però dobbiamo imparare anche noi a utilizzarle perché effettivamente ci sono ci sono ma dobbiamo essere molto più consapevoli quindi una delle soluzioni per farlo propendere come un vantaggio è quello della formazione di essere consapevoli di formare sia gli utenti ma anche ovviamente i dipendenti delle aziende che maneggiano e monitorano questi dati così così delicati e poi ovviamente la regolamentazione perché comunque innovazione normativa spesso vanno a due velocità molto diverse quindi c'è anche un po' questa difficoltà perché bisogna trovare quell'equilibrio in cui ci sia una regolamentazione non troppo rigida altrimenti rallenta e frena l'innovazione ma neanche troppo veloce per poter effettivamente applicare queste applicazioni quindi le normative e la regolamentazione sono un altro fattore importante certo ecco Giuditta una maggiore appunto attenzione dal punto di vista normativo e anche una maggiore consapevolezza diceva Deborah che deve partire innanzitutto da noi sì io sono estremamente fiduciosa verso il futuro e verso l'attualità direi perché di fatto stiamo vivendo un cambiamento epocale e dobbiamo essere in grado di viverlo al meglio sicuramente e di surfare quell'onda che stiamo vedendo arrivare in maniera importante sicuramente quando parliamo di artificial intelligence non è nata ieri l'altro ieri ma sono anni ecco non era per non addetti ai lavori ecco oggi invece la vediamo tutti con chat GPT e con tutti i software che stanno nascendo sicuramente non dobbiamo farci spaventare dal cambiamento dobbiamo saperlo sfruttare a nostro vantaggio e quindi formarci su nuove competenze per poter trarre i vantaggi dall'intelligenza artificiale tutte le nuove tecnologie e sviluppando anche per tornare al tema di prima quelle che sono nuove professioni che si possono poi che possono andare a complementare anche l'utilizzo di questi sistemi ecco Simone chiudo con una tua battuta direi è necessario trovare un equilibrio tra l'esaltazione da una parte della tecnologia di tutto quello che il digitale l'intelligenza artificiale renderà possibile ma dall'altra parte ecco anche un aumento di consapevolezza dei rischi che andiamo incontro ma io prendo una posizione netta io sono molto favorevole molto positivo noi confondiamo talvolta e pensiamo in modo presuntuoso di essere in un momento unico di cambio epocale e la tecnologia e questo è l'unico momento in cui l'uomo affronta queste nuove grandi tecnologie ma in realtà secondo me abbiamo visto di più perché esattamente cento anni fa tra gli anni dieci e gli anni venti è arrivato il telefono il volo il motore a scoppio su base industriale la rivoluzione industriale vera che è quella del taylorismo che ha consentito di portare trasformazioni epocali il frigorifero non lo raccita mai nessuno ma c'erano le ghiacciaie la fabbrica la lavastoviglie che è fondamentale la lavastoviglie è arrivata un po' dopo però il frigorifero negli anni dieci l'attività più redditizia nelle città metropolitane erano le fabbriche del ghiaccio le fabbriche del ghiaccio oggi praticamente non esistono più per cui non dobbiamo pensare che la tecnologia di oggi che è una tecnologia diversa però nell'approccio della trasformazione porterà dovremmo imparare a usarla dovremmo imparare a farci conti anche con l'intelligenza artificiale che poi si tratta più che altro di come la istruiamo e loro scusami se mi inserisco Simone forse però c'è una differenza rispetto alle precedenti rivoluzioni che hai citato che questa ecco quella tecnologica è una rivoluzione costantemente presente che influenza tutti gli ambiti della nostra esistenza è in un certo senso anche un po' pervasiva rispetto a quelle che hai citato ecco forse è questo è questa la differenza o no? non sono molto d'accordo anche quella era una rivoluzione pervasiva c'è un famoso episodio poi chiudo è un aneddoto però interessante ne dico due uno è Greenwich l'ora di Greenwich è del 1880 non è di 300 anni fa è del 1880 a un secolo e mezzo prima non esisteva neanche l'idea perché non serviva l'idea di avere un'ora condivisa perché non c'erano mezzi di trasporto abbastanza veloci per cui dovunque andavi c'era un campanile e l'ora era quella lì e nessuno stava tanto dietro a questa cosa e se non è pervasivo quello e il telefono ricordo che nelle corti in Prussia e in Inghilterra era stato installato il telefono ma era stato messo a 12 stanze di distanza dal re perché nessuno poteva parlare con il re e c'era questa idea che è stata altro che pervasiva che è come la nostra idea oggi diciamo della comunicazione che azzerava le distanze di comunicazione quindi la pervasività è un tratto sicuramente comune oggi abbiamo delle sfide essenzialmente secondo me quella della sostenibilità e quella del metterci come dice fare la pace col pianeta e trovare un modo per ed è pervasiva l'intelligenza artificiale dobbiamo capire perché siamo all'inizio però dobbiamo imparare dobbiamo imparare secondo me è un tema di imparare istruirla bene perché poi l'intelligenza artificiale non ha per ora una morale e quindi imparerà le cose che noi gli diciamo che sono vere o che sono giuste e questo forse è la vera sfida delle fake news e infatti concludiamo proprio con le sfide del futuro se poi gli altri speaker vogliono aggiungere qualcosa Simone ha citato sostenibilità intelligenza artificiale a questo gruppo di parole che cosa possiamo ulteriormente aggiungere io volevo aggiungere qualcosa a quello di cui parlavate voi su un'innovazione pervasiva vorrei distinguere un po' l'innovazione dalla disruptive innovation che sono due concetti secondo me molto diversi è sicuramente importante l'innovazione evolutiva come quella del frigorifero la lavastoviglie o lavatrice che soddisfano un bisogno già esistente è un'evoluzione per la soddisfazione di un bisogno altri fattori però di cui parliamo ora come l'intelligenza artificiale machine learning e anche il fintech soddisfa non sempre ma in alcune parti anche di un bisogno non esistente prima ma che viene creato con queste nuove innovazioni e che prima non esisteva quindi sono due tipi di innovazioni diverse assolutamente hai fatto benissimo a sottolinearlo Giuditta un ultimo commento sulle sfide del futuro ma riprendo quanto stavo dicendo prima perché credo che una sfida sia sicuramente imparare ad imparare perché tipicamente ci dimentichiamo un po' come si fa ad imparare dai tempi delle scuole mentre la sfida del futuro sarà avere una tipologia di formazione continua nel tempo e dovremo supplire a quello che le macchine la robotica non saprà fare quindi ancora la creatività la capacità di avere quell'empatia quel pensiero laterale quelle soft skills sarà fondamentale e sarà il vero fattore differenziante almeno fortemente differenziante rispetto alle macchine e se prima si parlava di insegnare l'educazione finanziaria nelle scuole oggi parole del World Economic Forum si sta parlando anche di insegnare queste competenze fin da bambini quindi si lavora veramente su quelle che sono queste competenze laterali assolutamente fondamentali per rimanere competitivi Deborah io vorrei improvvisare un attimo e fare una domanda giuditta ma più che altro anche per curiosità personale a livello di formazione il metaverso può aiutare come un nuovo metodo di apprendimento un po' più questa è un'altra grande discussione cioè sui metodi di apprendimento quanto ecco il digitale innanzitutto in primo luogo ma tu hai già citato una frontiera successiva cioè quella del metaverso ci aiuti ad acquisire nuove competenze ma soprattutto a farle rimanere all'interno della nostra testa ecco perché questo è un po' il dibattito che si è generato di come ci siano tanti dati ma la capacità di immagazzinarli con questa quantità di dati che ci assale diventa un pochino più difficile Giuditta la risposta è una bellissima domanda che apre un dibattito importante che poi sicuramente avrò modo di continuare diciamo il metaverso può essere sicuramente una metodologia talmente immersiva quasi esperienziale che aiuta effettivamente l'apprendimento si stanno ancora facendo dei tentativi noi stessi stiamo provando alcune in alcune alcune classi ecco utilizzare anche queste metodologie di metaverso quindi totalmente immersive o anche di realtà aumentata in alcuni casi e vediamo che la risposta è sicuramente positiva dobbiamo essere in grado di non scollegarci totalmente poi da quello che è il mondo reale perché la linea ecco divisoria è molto labile in alcuni casi soprattutto per le nuove generazioni sappiamo che può diventare un problema quindi io sono assolutamente favorevole anche a questi metodi di apprendimento non devono essere gli unici ecco abbiamo detto che avremmo concluso la tavola rotonda con un'apertura al futuro e che cosa c'è insomma più del metaverso che ci apre al futuro vedremo insomma se questa innovazione effettivamente prenderà piede o meno abbiamo visto dibattito sul metaverso negli ultimi mesi quanto si sia scatenato anche perché i dati in realtà ancora non lo supportano al cento per cento c'è stato un freno ecco allo sviluppo del metaverso una questione forse di tempistica c'è stata di mezzo anche la pandemia una questione magari di infrastruttura tecnologica abbiamo parlato di gap tecnologico da colmare chissà io faccio così vi rinvito al prossimo anno e vediamo se abbiamo dei dati ulteriori su cui ragionare io ringrazio moltissimo Deborah Ollasci Head of Content Fintastico Giuditta Massone Industry Lead Financial Services di Talent Garden e Simone Pizzoglio Head of Finance and Utilities Bivo ad OXA grazie mille